In prima fila credo che stiano arrivando gli altri. Io da elenco che mi è stato dato ho Francesco Lattarulo, Alex Marano, Mario Bianco, Francesco D'Auria, Luigi Lastorina, Carmela Pecoraro, Elisabetta Villaggio, Maria Rosaria Caracciolo, Roberto Pellegrino, Dario Incerti, Ralf P. Puntato, mi dispiace non so come proseguire. Stava bene così, Ralf P. e Cinzia Masotina. Benvenuti e diamo inizio alla conferenza. Ripeto, negli altri giorni ho ripetuto questa cosa, mi piacerebbe che iniziasse la sala con qualche domanda, se no sono costretto io a procedere con delle domande che rimarranno nella storia delle conferenze stampa mondiali. Allora io in maniera veramente elementare faccio la prima domanda a Giuseppe Marco Albano, però dico una cosa che forse può riuscire a rompere il ghiaccio. Qualche anno fa ho avuto una stessa idea che non è diventata un documentario, perché per il Roma Fiction Fest organizzai un reincontro, dopo quasi trent'anni, quindi più o meno, con una delle serie televisive che hanno allevato la mia generazione, che si chiamava I ragazzi di Padre Tobia, chi ha una certa forse se li ricorderà. E io ho fatto rincontrare tutte queste persone in un teatro rumano ed è stata un'esperienza così. Questo è il legame che chiedo a Giuseppe Marco Albano di iniziare questa cosa. Qualcosa ci accomuna, Giuseppe? Beh, infatti sì. Io ero un bambino ed ero un appassionato di cinema e Io speriamo che me la cavo fu uno dei miei film preferiti, tra l'altro perché? Perché sono pugliesi di nascita ma ho vissuto sempre in provincia di Matera, Bernalda, e il set di Io speriamo che me la cavo era a pochi chilometri dal mio paese, quindi a Taranto. Principalmente il film venne girato a Taranto. E quindi dalla passione del cinema qualcuno della mia famiglia mi disse ma sai che stanno girando un film? Poi arrivai a vederlo quel film e mi appassionai come penso tantissimi ragazzini della mia età e quindi diventò uno dei miei film preferiti. Poi sono arrivato a fare cinema, ho iniziato il mio percorso, ho fatto i miei cortometraggi, le mie cose e in un festival ho incontrato, l'avevo conosciuto già prima Adriano, però lui non si ricordava di me, l'avevo già incontrato a me. Ma capita, sai, capita molto spesso. Ero già un fan, no? Perché a Adriano Pantale era spillo, era già spillo della fiction della Rai con Massimo D'Apporto, amico mio, quindi per me era sempre stato il bambino più famoso d'Italia. Quando l'ho incontrato in quel festival a Maratea, disse Adriano, ma che fine hanno fatto tutti quei bambini della classe? E lui disse ma sai che me lo chiedono tutti e allora dobbiamo fare un documentario su questa cosa qua. E quindi da lì siamo diventati amici e abbiamo iniziato questo viaggio insieme che è durato un bel po' e alla fine poi abbiamo messo su un progetto con delle produzioni vere e proprie che sono la mia società che è mediterraneo cinematografica e la società di Adriano che è terra nera. Benissimo, allora Giuseppe, credo che tu abbia risposto alla domanda che avrei voluto fare, cioè come hai convinto dei produttori a tentare questo tipo di avventura, insomma l'hai già detto, nel senso è una sorta di autofinanziamento, anche se onestamente, ma lo dico anche legandomi all'esperienza mia personale, è una cosa che io a me entusiasmano queste operazioni. Quindi a questo punto passerei la palla ad Adriano che ci racconta invece la versione, cioè come se è una cosa che hai preso con entusiasmo, secondo me sì, insomma credo proprio di sì. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. No, sì, in realtà quello che ha detto Giuseppe è tutta la verità, non mi ha stalkerato, insomma, per fare che no, no. Diciamo che negli anni, in questi 30 anni, mi era successo diverse volte che mi chiedessero di fare qualcosa su quel film, su quel mio primo film che è stato, che io speriamo che me la cavo, però probabilmente insomma ne ero ancora troppo troppo coinvolto, non sentivo insomma che fosse il momento giusto. Quando invece Giuseppe mi ha detto questa cosa ho sentito immediatamente che era, era raggiunto il momento probabilmente insomma la mia età, la distanza dal film, il fatto che stessimo arrivando ai 30 anni, poi ci sono state tutta una serie di cose che si sono andate appunto ad incastrare, lo Scarallina Wirtmuller e tante altre cose, quindi mi sono lanciato veramente in questa che, come ha detto Giuseppe, è stato un vero e proprio viaggio, viaggio per me all'interno di tanti ricordi che avevo e di tanti che non ricordavo di avere, di possedere. Dico spesso che questo documentario che poi insomma è durato circa tre anni, poi c'è stato il Covid, tanto, quindi insomma è stata una roba anche proprio vissuta, sentita, è stata come se fosse stata una grande seduta da analisi. C'è stato anche qualcuno che ha cambiato fisionomia nel frattempo, dalle prime riprese. Sì, mia figlia ad esempio che è all'interno del documentario oggi è abbastanza più grande, insomma quindi lì vediamo la differenza di quanto è durato questo documentario. No, però dicevo ovviamente quando hai un'esperienza così forte, così potente come l'è stata per me, per Gino, per Carmela, per tutti i bambini, gli ex bambini, tante cose in realtà non le ricordi o alcune le hai anche rimosse probabilmente e quindi poi ritrovarle, raccontarci, raccontarcele è stato veramente emozionante. Per me non è ovviamente un film normale, non è un film come tutti quelli insomma che ho fatto in questi anni, ma è qualcosa che sento profondamente e particolarmente. Domande? Benissimo, grazie. Buongiorno, progetto entusiasmante, ma c'è stato qualcuno che non ha voluto. Non ha voluto? Non ha voluto partecipare dopo i trent'anni, non è stato interessato a… Qualcuno di voi che ha rifiutato di… Sì, diciamo che all'incirca nel documentario ci sono tutti, ne mancano giusto un paio, due. Di uno non abbiamo preso totalmente le tracce, non sappiamo proprio che Ivan Salazzaro era andato a vivere fuori, avevamo dei numeri di telefono, non ci ha mai risposto, cose strane. E un'altra ragazza è Ilaria Troncone che non se l'è sentita, non ha avuto la volontà di essere ripresa, di essere intervistata. Mentre abbiamo il fratello Marco Troncone perché loro erano due fratelli all'interno del film, gli unici due ad essere fratelli tra tutti i bambini. E Marco invece ci ha rilasciato all'intervista, ha fatto anche un'intervista molto bella, si è confidato, ha avuto dei problemi durante il suo percorso di vita, che ha superato adesso egregiamente, però è stata una bella intervista. Invece Ilaria è stata l'unica che ha rifiutato. Domande? Prego. Buongiorno, Nicole Bianchi, Cinecittà News, per Adriano Pantaleo. Seppur fossi un bambino, in quel momento quindi avessi una consapevolezza relativa in termini professionali, con il tempo cosa hai capito di esserti portato dietro da Paolo Villaggio e da Lina Vermiuller? C'è, non dico degli insegnamenti, però qualcosa che ti è rimasto e che riconosci nel tuo mestiere di oggi? Grazie. Sicuramente è stata l'esperienza più formativa di tutta la mia carriera e nel documentario viene raccontato come per fare quel film ci siamo noi bambini preparati per oltre due mesi, tutti i pomeriggi a studiare con un coach, con un insegnante di recitazione che all'epoca era una cosa insomma impensabile e quindi questo già fa capire quanto sia stata formativa proprio per me. E quello che ho portato da questi due colossi del cinema, non solo italiano ma mondiale, è sicuramente un grandissimo rigore, una grande professionalità. collina mi sono incontrato e rincontrato sia professionalmente, ho fatto un altro film Ferdinando e Carolina con lei, avevamo un altro progetto insieme che proprio non sono riuscito a fare perché io ero impegnato in un'altra cosa, ma lei è stata insomma per me sempre un punto di riferimento. Momenti cardine della mia vita, non soltanto della mia carriera, io lo andavo a trovare lì a Piazza del Popolo a casa sua dove bussavo, citofonavo e lei era spesso insomma a casa, salivo, passavo dei pomeriggi con lei a chiacchierare, ricordo l'ultima volta, insomma l'ultima volta l'abbiamo qui nel documentario, però l'ultima volta che ci sono andati ho passato un bel pomeriggio con lei quando aspettavo la mia prima figlia Margherita e sentì proprio l'esigenza, la necessità di andargielo anche a dire a lei e fu molto bello perché insomma lei mi disse che da quel momento anche il mio lavoro sarebbe cambiato, avrei visto insomma questo mestiere, questo lavoro che avevo fatto finora con grande passione, grande insomma trasporto in modo diverso, lì per lì non capì bene quello che mi stava dicendo, oggi insomma sono pienamente cosciente di quello che voleva dirmi e anche di Paolo Villaggio, noi tutti ci aspettavamo ovviamente di trovare sul set Fantozzi, lo conoscevamo come Fantozzi, eravamo dei bambini e invece ci siamo trovati un grandissimo professionista che con grandissimo rigore, con grandissima professionalità ha affrontato quel film anche per lui particolare, diverso e sono cresciuto con una foto di fronte al mio letto in cui c'è Paolo Villaggio sul set di Osprema e Melacamo in questa piazza era prestissimo, faceva freddissimo di mattina a Taranto e lui era un cappotto doppio petto e si vede soltanto lui che sta lì al centro della piazza però a guardare bene dal suo cappotto escono altre due gambine che sono le mie che hanno delle converse al piede Bordeaux e lui mi aveva messo lì sotto insomma per proteggermi dal freddo quindi quella è stata proprio un'immagine con cui io sono cresciuto perché era nella mia cameretta di bambino poi ragazzino fino a quando poi sono andato via da casa di mia madre. Altre domande? No, allora vado io, vorrei che tutti partecipassero a questa conferenza dei relatori quindi darei la parola a Claudio Puglisi se ci può dire la sua su quella che è stata questa esperienza. Sì, noi entriamo diciamo come scrittorio a un certo punto del percorso che loro avevano già fatto, avevano già iniziato a riprendere avevano già quasi completato una parte delle riprese e a un certo punto ci imbattiamo in questo progetto che ci interessa per due ragioni principalmente sicuramente il ricordo di io speriamo che me la cavo non posso dire che ero un bambino quando c'è stato io speriamo che me la cavo, avevo qualche annetto in più quindi un ricordo molto preciso diciamo i due elementi erano trainanti sono stati sicuramente anche il poter rendere omaggio a una figura che nel cinema ha rappresentato qualcosa di molto rilevante che era Lina Vermuller e dall'altra parte il fatto che da questo cinema non trasparisse solo il ricordo di quel momento storico vissuto da tutti questi ragazzi in quell'esperienza ma anche un'occasione per raccontare una società e un mondo che si era trasformato, che era cambiato e quindi siamo poi entrati in questo progetto a partire da chi ha collaborato proprio come story editor nel cercare proprio anche di far emergere quell'aspetto che mi sembra sia un aspetto molto interessante perché il ricordare un episodio della propria vita e quel film è già di per sé un qualcosa di interessante e carino però poter ampliare il raggio d'azione, l'indagine proprio perché è un documentario quindi il documentario, quindi il cinema reale ha quella capacità di andare ad indagare un po' più a fondo e da alcune delle interviste di questi ragazzi di allora emerge proprio quanto questa società in cui loro sono stati bambini è cambiato e quindi poi il fatto di riuscire ad aiutare il film anche nella parte della comunicazione e in quello che sarà poi il suo percorso distributivo Tra l'altro c'è un occhio anche attento sui cambiamenti sociali della situazione napoletana da un certo punto di vista Esattamente proprio quello Sì, è verissimo Domande? Allora vado con la produzione Sentiamo allora Angelo Troiano di Mediterranea Cinematografica e poi di conseguenza Maurizio Gemma della Film Commission Campania in un film che tra l'altro è ambientato a Napoli che parla di Napoli ma che è stato girato in un altro posto Esattamente Esattamente Innanzitutto grazie anche per aver stimolato le domande in un periodo di fiacca Non parliamo di legge di bilancio però siamo sempre molto aperti Mi pagano per questo No, no, dico quindi è una cosa importante Allora io ci terrei a dire una cosa Innanzitutto grazie Io qui rappresento sicuramente Mediterraneo Cinematografica però è stato veramente un percorso straordinario quello fatto con Terra Nera quindi le due società di produzione poi Claudio vi ha già detto di come abbiamo avviato anche una collaborazione già nella fase di realizzazione e poi ora stiamo continuando a lavorare in questo percorso distributivo Vorrei porre soltanto un accento su una questione nel senso non vorrei passasse il messaggio che corre il rischio di essere tra virgolette banale nel senso Adriano e Giuseppe avevano sì delle società però non è stato automatico avviare il progetto quindi perché a volte può sembrare quasi scontato che uno fa parte di una società e quindi il progetto in automatico si fa invece loro hanno proprio puntato molto su questa cosa che diceva lei ovvero Napoli è protagonista di questo film e la volontà era sicuramente di vedere che cosa è successo a questi ragazzi dopo 30 anni però l'autorialità è emersa proprio nella volontà di raccontare tramite questo film uno spaccato italiano non soltanto quindi della città di Napoli e di come questo spaccato a differenza di 30 anni si sia modificato si sia modulato se ricordate proprio nel film io speriamo che me la cavo l'errore dell'invio del maestro parte proprio anche con il pregiudizio di un maestro del nord che si ritrova a vivere una realtà del sud rimanendone poi piacevolmente sorpreso quindi come ogni documentarista che si rispetti Giuseppe comunque ha iniziato con delle lavorazioni e sulla base di quelle lavorazioni ricordo bene che c'è stata una riunione a Pompei se non ricordo male a cui partecipò anche il direttore della fotografia Francesco e io sono molto contento perché in quell'occasione conubbi di persona per la prima volta sia Francesco Di Leva che non è qui con noi ma è uno dei produttori del progetto ma Alex Marano che firma abbiamo anche questa bellissima firma anche da oltre produttore organizzatore generale visto che comunque nonostante la giovane età ha un background molto importante già direttore di produzione di autori quali Sorrentino e Martone quindi abbiamo veramente dato di tutto ringrazio ovviamente il mio socio Francesco Lattarulo qui presente non posso fare un elenco enorme chiudo la reunion di 30 anni fortunatamente a questo aspetto vorrei fare un assist proprio a Maurizio lo vorrei fare in questi termini perché Pompei è stato un momento chiave nel senso analizzare il progetto non soltanto per la questione pop riprendiamo un film c'era la questione dei materiali del film che anche ricostruire la paternità la proprietà di quelle immagini di repertorio non è stato un lavoro semplicissimo l'altro momento chiave è stato nominavo prima Francesco Lattarulo anche quando a Tirana non a Torino a Tirana è stata compilata la domanda di candidatura per ricevere il contributo alla campagna Phil Commission che da subito ci ha abbracciati e accolti un po' come quella immagine di cui ci parlava prima Adriano ci siamo un po' sentiti accolti come giovane produzione giovani autori da questo cappotto della campagna Phil Commission regione Campania e quindi siamo molto molto contenti di essere riusciti a portare a termine il progetto e di essere qui oggi tutti insieme quindi ringrazio l'ultimo ringraziamento lo volevo rifare a Cinzia permettetemi Cinzia Masotina che comunque ci ha visti anche crescere in tanti passaggi quindi grazie Maurizio Gemma a chi osare beh insomma effettivamente è una vicenda molto densa molto importante è un film sul film ed è la prova del fatto che quando una storia è potente diciamo continua a generare cose continua a generare riflessioni punti di vista quando i ragazzi che seguono da sempre diciamo Francesco devo dire Angelo insomma voglio dire è un collettivo che seguiamo da sempre ed è anche questa la prova del fatto e come Film Commission da quando esistiamo e dicevo l'altro ieri per il film La Giunta dal 2016 da quando abbiamo stabilizzato un sistema di incentivazioni con una legge regionale ecco collettivi come questo li seguiamo con molta attenzione li abbiamo visti crescere li abbiamo aiutati a crescere abbiamo sostenuto la loro crescita anche dal punto di vista diciamo della formazione perché loro sono stati più volte coinvolti in un'iniziativa che con le altre Film Commission del Mezzogiorno Media Talent Unturo diciamo proponiamo ogni anno un percorso di formazione per produttori per giovani produttori delle regioni del sud dunque quando loro mi hanno parlato di questo progetto mi sono subito entusiasmato che poi come potete immaginare e come dicevo l'altro ieri è vero che mi occupo degli aspetti come dire industriali realizzativi dell'audiovisivo ma questo genere di lavori si fanno anche per passione insomma anche io ho un punto di vista anche io ho un cuore una passione diciamo e un gusto diciamo per la storia del cinema e dunque devo dire che questo progetto mi ha coinvolto fin da subito perché ne ho visto un potenziale che è stato anche indicato era l'occasione di celebrare ma non diciamo scioccamente non come dire in maniera un film come dire che ha avuto un ruolo importante quando in Italia la commedia diciamo era una cosa importante e quando la commedia si rivolgeva a un pubblico vastissimo e non era un prodotto di serie B rispetto diciamo al film drama non so come dire o al cinema d'autore ecco un film importante che è uno spartiacque perché nel nostro mezzogiorno è diciamo da un abbrivio a un nuovo modo di raccontare le contraddizioni un nuovo modo di raccontare potremmo dire che il progenitore di Benveuti al Sud diciamo no che ovviamente ha una sua versione originale francese come sappiamo bene però diciamo io credo che diciamo l'ispirazione degli sceneggiatori sia stata anche un po' quella ribaltare un punto di vista diciamo tra virgolette un luogo comune e raccontare invece le contraddizioni senza pietà magari con un piglio un po' comico però un po' comedi però diciamo come dire facendo arrivare delle riflessioni importanti loro prendono questa massa e in qualche modo la trattano in un modo alternativo e questo è già di per sé un atteggiamento estremamente creativo secondo me dopodiché non si fermano perché poi intraprendono una scalata ambiziosa diciamo produttiva perché il film è un film costoso certo i diritti la ricerca i personaggi ed è un film anche pericoloso perché le storie dei singoli sono tutte quante importanti e come fare diciamo a dosare come fare a scegliere come fare in qualche modo a mettere assieme questo caleidoscopio di ragazzi e ragazze poi la prima domanda è importantissima che fine hanno fatto questi ragazzi ma questi ragazzi però nel raccontare la loro storia il loro percorso la loro esperienza il loro sogno nel film di Lina Bertmuller raccontano pure quella che è la loro vita di oggi certo i cambiamenti i cambiamenti che ci sono stati raccontano cambiamenti rinunce rammarichi insomma come dire gente che probabilmente non si immaginava di intraprendere la vita che ha intrapreso e questo è raccontato con grande delicatezza con grande onestà quindi senza compiacimento senza è una celebrazione diciamo non banale non retorale assolutamente ed è diciamo chiudo dal punto di vista produttivo è la prova che poi diciamo anche le cose complesse con un supporto adeguato magari forse con un'attenzione un po' più significativa da parte del sistema televisivo italiano da parte diciamo come dire delle piattaforme ecco insomma potrebbe generare prodotti a mio avviso interessanti autoriali ma anche adatti a un pubblico molto vasto come sicuramente questo ce la siamo cavata anche questa sera questa mattina grazie a tutti grazie 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 a tutti